Mi trovo in via delle Fornaci, zona Porta Napoli a Taranto, è l'area dell'ex mercato ittico galleggiante. Tolto questo mercato che era proprio collassato nel degrado e nell'abbandono, guardate cosa resta, una zona completamente purtroppo degradata, basta un po' d'acqua, non è che parliamo di piogge torrenziali, ma davvero è incredibile vedere lo scempio, lo stato di abbandono che sussiste in quest'area, appunto ridotta ad acquitrino. E allora nel momento in cui si è provveduto a rimuovere il mercato, parimenti, tutta la zona doveva essere riasfaltata, doveva essere riqualificata. Una zona meravigliosa, guardate che spettacolo, il mare, il ponte Punta Penna in lontananza, i pali delle cozze, i gabbiani, le barche, le boe. E qui invece il degrado, perché purtroppo c'è una Taranto bellissima, ma c'è una Taranto abbandonata, una Taranto degradata, una Taranto in cui non esiste appunto la manutenzione, né quella ordinaria e né quella straordinaria. Un asfalto, un manto stradale che vedete è completamente sconnesso, emerge quasi il pietrino perché chiaramente l'asfalto si è, guardate come si è proprio letteralmente sgretolato e quindi chiaramente basta un po' d'acqua per davvero farlo proprio ridurlo a pietre, ridurlo a briciole. Qui sembra quasi uno specchio d'acqua, ma queste ripeto sono delle immagini a distanza di 5 o 6 ore dalla pioggia e quindi la zona ora appare poco 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 migliore. Anche qui, guardate, l'acquitrino che si è creato, proprio una pozzanghera, una pozza d'acqua. Ecco, passatemi l'espressione, una pozza d'acqua. Guardate, è possibile una cosa del genere? È possibile? Tra un po' avremo anche le rane che spunteranno. Vi lascio immaginare cosa succede quando passa una macchina. Ecco, un lago, un laghetto, il laghetto Melucci, potremmo chiamarlo lago Melucci. Queste sono le immagini attuali, ma se vedete le immagini che sono state fatte alcune ore fa, quando c'è stata la pioggia, davvero sembra di stare in una palude, in un acquitrino, non so come definire questo stato, questa condizione e anche qui tutto, vedete, il tratto, tutta l'aria è ridotta praticamente ad un pantano. Questa è la rinascita che l'ex sindaco Melucci dice di aver seminato, la palude ha seminato, il degrado, il nulla. E veramente mi irrita sentire abbiamo seminato la rinascita. Insieme a me sono irritati i cittadini che operano, che appunto lavorano in quest'area e si trovano in condizioni pietose. Un ex sindaco Melucci che ha saputo solo raccontare favole. Le immagini parlano da sole e i cittadini in cabina elettorale si ricorderanno. Si ricorderanno delle false promesse, degli inganni e soprattutto dell'ipocrisia che l'ex sindaco sta appunto a ogni pie sospinto manifestando, perché parlare ripeto, di rinascita e poi vivere uno stato pietoso come questo, davvero mi sembra uno schiaffo alla nostra città, uno schiaffo a noi cittadini. Pensateci in cabina elettorale. Io sto mettendo la faccia, il mio impegno, la mia voglia. Sto mettendo a disposizione il mio patrimonio, il mio bagaglio di conoscenze amministrative e di conoscenza della città pezzo a pezzo. 21 anni di attività giornalistica sono tantissimi e vi posso dire, conosco questa città come e meglio delle mie tasche.